Fefe De Giorgi è pugliese ed è un'eccellenza pugliese, premiato nell'evento che si tiene nel nuovo Teatro Verdi con tutta una serie di riferimenti alla carriera, prima come atleta, poi come commissario tecnico della Nazionale e gli ultimi successi, un momento importante sul piano personale e professionale. Sì, tanto sono contento, felice perché quando torno, e torno nella mia terra, nel Salento, a Squinsano, ricevere questo premio è una testimonianza di affetto, devo essere sincero, noi abbiamo bisogno di sentire l'affetto delle persone a noi vicine e anche perché cerchiamo con il nostro lavoro di onorare anche la nostra terra, da dove veniamo, perché è da lì che abbiamo preso fondamentalmente dei valori importanti nel nostro percorso e abbiamo realizzato qualcosa di importante, quindi diciamo che c'è un dare e avere da questo punto di vista che è molto bello e quindi sono contento. Poi questa è stata un'estate molto particolare perché abbiamo vinto con questa nazionale nuova, giovane, abbiamo vinto un mondiale in un modo incredibile confermandoci dopo l'europeo, è stato veramente un momento importante per la nostra Palavolo e poi la Federazione Italiana Palavolo quest'anno ha vissuto la stagione forse più vincente, mai esistita perché praticamente abbiamo vinto 11 tornei fra tutti i giovanili. E poi ai vertici della Federazione c'è un pugliese. E poi non so se è un caso, non lo so se è un caso, però è un bel caso. Quando è arrivato lui? Lui dice sempre scherzando, cioè scherzando, cercando di sminuire, dice sai sono uno che porta fortuna. Però sappiamo che è la giustificazione degli altri quando non trovano il motivo. Invece è una persona che è cresciuta nel territorio, che è cresciuta proprio da provinciale, regionale, nazionale, quindi conosce molto bene quello che è il territorio. È una persona molto competente, che dà il 100% di quello che è e sono contento che da quando sia arrivato lui arrivino anche tanti risultati. E poi ha scelto anche un allenatore pugliese. Ma non lo ha scelto perché ero pugliese, devo essere sincero. Poi questa coincidenza... Semplicemente perché era bravo evidentemente. Spero di sì, è una coincidenza che però rende onore e merito alla nostra regione. Fefe, da sempre la pallavolo gode di grande simpatia dal punto di vista della considerazione della gente e anche di un'importante vetrina mediatica, televisiva, il che non guasta. Sì, noi siamo uno sport molto praticato, diciamo che come iscritti dopo il calcio c'è la pallavolo, devo dire molto più dalle donne che dagli uomini come percentuale, ma è uno sport che attira, attira molto, attira molto i giovani, è uno sport che aiuta molto anche la crescita dei giovani, che non è solo la parte, diciamo, del benessere fisico, ma anche proprio lo sport in sé per sé come valori, no? Questo del passaggio, dei tre passaggi, della reciprocità, della condivisione di alcune cose e quindi è uno sport che piace. Credo che sia un valore aggiunto, ma anche se poi io credo che alla fine quello che noi dobbiamo trasmettere, noi come sport di squadra, che sia pallavolo, pallaganesto, che sia qualsiasi cosa, calcio. Dobbiamo trasmettere dei messaggi sempre positivi che sono legati al risultato ma vanno anche al di là del risultato e questa, diciamo, è la sfida che bisogna fare per attirare i giovani a fare sempre più sport, a praticare lo sport perché è un mezzo molto efficace per raggiungere obiettivi importanti etici. A proposito dei messaggi positivi, posso chiederti qual è la tua opinione sul caso Egonu? La mia opinione è che intanto non conoscendo la Egonu non mi sento di dire qualcosa a lei come Egonu, come giocatrice, perché dovrei conoscerla. Sicuramente bisogna dare solidarietà perché quando accadono queste cose, insomma, non bisogna smettere di dire, vabbè, tanto succedono, ci sono. No, no, bisogna, come è stato fatto, insomma, prendere posizione abbastanza netta. L'unica cosa che io cerco con i miei atleti è quella di cercare di responsabilizzarli perché i social ormai fanno parte della vita di questi atleti, servono anche dal punto di vista della carriera gli atleti, bisogna capire questa cosa qui perché personaggi come La Egonu, come tanti altri palabolisti, famosi Zeiss, hanno tantissime persone che li seguono e gli sponsor si avvicinano anche per quello, cioè è tutto un dare e avere da quel punto di vista, però bisogna stare attenti come si utilizzano perché alla fine il passaggio è sempre lì. Hanno dei vantaggi ma bisogna capire che chi fa sport ad alto livello deve conoscerli e usarli nel modo giusto, nel senso che alla fine quando sei in competizione, quello che io cerco di dire ai miei ragazzi, insomma, se non sapete gestire le critiche o queste cattivere che a volte escono perché basta che perdi una partita e ti scrivono di tutto e allora conviene in quel momento non usarli, avere il focus su quello che è il match, quello che è il torneo e dopo usarli per quello che servono. Non farsi usare, bisogna saperli gestire, questa è la sfida che c'è con i ragazzi e i giovani. Programma di lavoro e soprattutto obiettivi di Fefede Giorgi e della sua nazionale? Beh, gli obiettivi sono quelli di continuare a crescere perché la cosa interessante di questo nuovo gruppo sono tutti ragazzi molto giovani, noi eravamo la squadra più giovane del mondiale con molti esordienti, quindi il nostro obiettivo è continuare questo percorso di crescita, di miglioramento perché abbiamo vinto l'Europa e il Mondiale, questo significa che adesso l'asticella si alza sempre di più e anche gli avversari alzano l'asticella per raggiungersi. Come abbiamo fatto fino adesso? Più che concentrarci proprio sul risultato finale che chiaramente è importante, vedere come arrivarci a questo risultato che è il passaggio più delicato e quindi dobbiamo alimentare tutti questi meccanismi che abbiamo messo fino adesso di ragazzi che hanno avuto una buona cultura del lavoro, amano la nazionale come maglia e quindi trovano energia quando la rappresentano e continuare su questo percorso perché l'anno prossimo abbiamo l'europeo che si gioca in Italia, quindi senza pressione assolutamente, diciamo così e poi ci sono le Olimpiadi nel 2024 che è un po' il percorso, la parte poi di chiusura di questo mio progetto con la federazione.